Intervista live a Zlatan Ibrahimovic, appena atterrato da Stoccolma. Bentornato Zlatan. Grazie, grazie mille. Sei felice? Molto, molto. Finalmente tutto a posto e finalmente potevo tornare dove mi sento a casa e adesso ho bisogno di lavorare e continuare. Tu hai scritto sui tuoi social, it's time to warming up. Il riscaldamento adesso è finito, Ibra? Sì, adesso iniziamo a lavorare e portare più risultati. Dal punto di vista invece delle aspettative, ti aspettano tutti, inutile nasconderlo. Ti aspetta il mister, ti aspetta la squadra, ti aspettano milioni di tifosi del Milan in tutto il mondo. Che cosa si aspetta invece Zlatan Ibrahimovic della prossima stagione? No, bisogno continuare, bisogno lavorare. Poi, come ho detto sempre, non sono qua per essere un mascot, qua per portare risultati, aiutare squadra, mister, club per tornare dove Milan deve essere. L'ultimo sei mesi abbiamo fatto alla grande, però non abbiamo vinto niente e questo anno ho possibilità da stare dall'inizio. Così bisogna continuare come abbiamo fatto e lavorare duro e fare sacrificio per arrivare a obiettivi. Tu come stai Zlatan? Come ti senti? Bene, bene, in forma. Ultimissima domanda, questa è la telecamera dei tifosi del Milan. Ci sono tantissimi tifosi che ti stanno guardando in questo momento. Il tuo messaggio, il tuo saluto per tutta la gente rossonera. Un grande saluto e spero che potete tornare il più veloce possibile in stadio per aiutare perché la squadra ha bisogno di tutti.